I prodotti fatti con materiali biodegradabili non sono progettati per essere abbandonati nell'ambiente, ma per essere recuperati mediante compostaggio. Ovviamente però ci domandiamo cosa succede nel caso in cui avvenga un rilascio accidentale. Le prove svolte sia da Novamont che da altri enti di ricerca hanno dimostrato che il Mater B, quando esposto ai microrganismi marini, raggiunge livelli di biodegradazione comparabili con quelli ottenuti da sostanze naturali come la cellulosa, con cui facciamo la carta. Questa caratteristica del Mater B permette di ottenere i prodotti che hanno una tendenza alla disgregazione che varia in funzione dello spessore e delle condizioni ambientali. Questa caratteristica è stata studiata nei sacchetti frutta e verdura, dove la completa disgregazione è stata ottenuta in un periodo di tempo compreso tra meno di quattro mesi e poco più di un anno, a secondo del tipo di sabbia, cioè di sedimento marino utilizzato. Nelle stesse condizioni, dei sacchetti di plastica tradizionale non biodegradabili sono rimasti del tutto integri. Questo è importante da sottolineare. Inoltre, questi sacchetti non biodegradabili, disgregando, danno origine a microplastiche non biodegradabili che si diffondono negli ambienti, mentre i prodotti Mater B non danno origine a microplastiche persistenti.